buongiorno a tutti oggi parleremo di concorsi dei docenti concorsi a cattedra 2023 come si compila la domanda per partecipare a questi concorsi domanda numero 1 su quale piattaforma si compila la domanda per partecipare al concorso a cattedra ordinario 2023 che sarà bandito nei prossimi giorni allora per compilare l'istanza bisognerà collegarsi alla piattaforma del ministero dell'istruzione del merito definita intitolata concorsi e procedure selettive in questa risposta abbiamo proprio linkato questa piattaforma potete fare clic su concorsi procedure selettive e così potrete vedere come da immagine qua sotto quale è diciamo questa piattaforma e poi si procede ad accedere al servizio tramite o lo speed o la cat e o la carta di identità elettronica la data presunta per la presentazione dell'istanza dovrebbe essere dal 4 dicembre 2023 al 2 gennaio 2024 salvo ritardi riferiti alla stesura definitiva del bando o qualche breve anticipo e già al primo di dicembre seconda domanda quali sono le sezioni obbligatorie che bisogna compilare nella domanda di partecipazione al concorso a cattedra per i posti comuni della secondaria e per quelli di sostegno come si comprende che la compilazione andata a buon fine per partecipare al concorso della scuola secondaria per una classe di concorso sia per i posti comuni e che per i posti di sostegno bisogna compilare in un'unica istanza le sezioni in cui il rosso è scritto obbligatorio con accanto un asterisco quindi saranno la claire definite queste sezioni saranno chiamate classe di concorso richiesta e titolo di accesso posto di sostegno richiesto e titolo di accesso altre dichiarazioni chiaramente chi non fa anche il posto di sostegno o chi non vuole richiedere posto di comune può evitare di compilare il riferimento o al posto di sostegno o al posto comune la compilazione sarà andata a buon fine quando come si vede nella figura sottostante per la prima sezione obbligatoria è definita in uno stato verde e le azioni disponibili saranno tre la visualizzazione la modifica e la cancellazione come appunto potete vedere da immagine allegata terza e ultima domanda quanti punti sono previsti al massimo per altri titoli valutabili nelle creatore di merito per il concorso ordinario 23 pnr il titolo di specializzazione del sostegno può essere valutato come altro titolo per il concorso sui posti comuni allora la valutazione complessiva dei titoli previsti per la partecipazione al concorso ordinario a cattedra non può eccedere i 50 punti e qualora fosse superiore verrà ricondotto al limite massimo di 50 punti il titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni e agli alunni con disabilità per ciascun titolo vengono assegnati cinque punti per la partecipazione alla classe di concorso posto comune il pretto titolo non è valutabile nella procedura concorsuale per i posti di sostegno se sostituisce il titolo di accesso se costituisce il titolo di accesso viene tuttavia valutato anche nelle procedure per i posti di sostegno qualora si tratti di un ulteriore titolo di specializzazione rispetto a quello che costituirà il titolo di accesso speriamo che le risposte date a queste domande sulla compilazione dell'istanza per partecipare al concorso ordinario siano state utili ai nostri telespettatori seguitici ancora perché l'argomento è un argomento caldo importante e verrà trattato nei prossimi giorni con continuità arrivederci a tutti grazie a tutti